Allora, Beppe Severnini e poi voglio tornare a Kiev e poi di nuovo Travaglio. Provo a essere molto breve. Io spero che Marco ti sia sfuggito né con la Nato né con Putin. Io sto con la Nato tutta la vita perché appunto è un'alleanza difensiva che ha commesso errori. E beh, io trovo che sia una cosa... allora è una cosa grave da dire in questo momento perché la Nato è quella... Ma è una cosa che io sono libero di dire e tu sei libero di non condividere. Scusami, certo, infatti lo stiamo facendo. È bello che ci conosciamo da tempo e su molte cose la pensiamo diversamente. Questa è una. Allora, i paesi famosi per cui Putin è arrabbiato che sono entrati nella Nato, ex paesi patto di Versabia, lo hanno fatto liberamente. Quello che ha detto il dottor Gigli è corretto. Cioè, noi stiamo dicendo che c'è un signore che può impedire alla gente a cannonati di non entrare in un'alleanza. Quindi, no, quello no. Io direi. E poi una cosa ancora, Marco. Secondo me, invece, questa resistenza eroica degli ucraini, e spero che non mi becco del bellicista perché questa mi mancava, perché non lo sono, invece è esattamente quello che ha impedito a Putin di avere e di ottenere quello che voleva subito. Lui pensava che l'Ucraina fosse una nazione finta, perché secondo me non sa neanche cos'è, non ha amici ucraini, non frequenta, non lo so come mai fosse così poco informato su un paese con un carattere così forte. Il risultato? Che non è riuscito a ottenere quello che voleva, ovvero entrare, questi zitti e buoni cacciano Zelensky, lui arriva e fa la Bielorussia 2.0. È proprio la resistenza ucraina che gli ha impedito di fare questo. E se si arriverà a un compromesso e alla pace, tutti ce l'auguriamo, anche domani mattina, è grazie al coraggio degli ucraini. Allora, Marco Travaglio e poi la nostra Sasha Romanzova. Qual è la domanda? No, la domanda è che tu... Se io sono favorevole al fatto che Putin voglia cacciare con le bombe dalla Nato i paesi che liberamente hanno aderito, questa è la classica caricatura che trucca il dibattito di questi giorni. Io ho sempre condannato il regime di Putin, fin da quando Berlusconi andava a strusciarcisi e a dire che era un dono del Signore e tutti in Italia ridevano o dicevano che era un grande pragmatico, quando aveva già fatto tutte le sue guerre, aveva già fatto ammazzare i giornalisti dissidenti. Quindi non accetto questo giochino, questo cartone animato, che chiunque dica qualcosa di dissonante è uno che sostiene che Putin può con le armi impedire all'Ucraina di entrare nella Nato. Io vi ho letto semplicemente le cose che hanno detto nella stessa giornata a proposito di quel centro, che non sappiamo ancora come chiamare, dove si fanno le esercitazioni della Nato, dove si istruiscono i militari ad andare a combattere, che credo sia un po' diverso dal centro di informazione di cui ci parlava il nostro ricercatore a Mosca. Dubito che la Nato a Mosca avesse un centro che addestrava militari ad andare a combattere contro la Russia. Non credo che questo fosse, quindi il paragone lascia ovviamente il tempo che trova. Per il resto, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che nel 1990, guarda che non sono discorsi oziosi, perché dato che l'unico dibattito importante in questo momento è come se ne uscirà, ed è quello che si chiedono tutti, nessuno si chiede se in Italia ci sono gli amici di Putin, perché non c'è nessuno che in questo momento abbia mai detto o pensato che Putin ha ragione a fare questa guerra criminale e a risolvere le sue controversie con quei mezzi brutali e assassini. Il tema interessante in questo momento è come se ne esce e per capire come se ne esce bisogna capire come ci si è entrati. Bisogna partire dal 1990 quando Jim Baker, segretario di Stato americano, disse nemmeno un centimetro in più a est della Nato e poi altro che centimetri. Di giorno in giorno si sono presi tutto tranne l'Ucraina e quindi ovviamente hanno assediato i russi e hanno fornito a Putin, che è un imperialista da sempre, non dal 24 febbraio del 2022, un alibi clamoroso per fare questa guerra criminale. Come se ne esce? Se ne esce facendo entrare anche l'Ucraina nella Nato? Perché liberamente l'Ucraina vuole entrare nella Nato? Se si pensa che se ne esca così, io credo che si esce da una guerra e si entra in un'altra. Oppure si decide una neutralità, come si è decisa a suo tempo per la Finlandia e per altri paesi che magari avrebbero anche voluto entrare nella Nato. Ma la Nato non è un club del tennis o della bocciofila dove uno paga la tessera e comincia a giocare. Per entrare nella Nato bisogna essere invitati. E la Nato ha una regola interna che dice che non può entrare chi entrando mette a repentaglio la sicurezza degli altri membri. Questa è la ragione per cui ad alcuni viene detto di sì e ad altri viene detto di no. Oltre al fatto che bisogna rispettare, almeno sulla carta, delle minime regole di decenza democratica che purtroppo la Nato non fa rispettare alla Turchia, che ripeto sta sterminando i kurdi che noi abbiamo mandato a combattere per procura al posto nostro contro l'Isis e che ha fatto carne di porco della libertà di stampa e delle libertà occidentali di cui adesso ci riempiamo la bocca perché ci fa tanto comodo. Senza contare quello che ha combinato la Nato in ex Jugoslavia e in Iraq e in Afghanistan dove solo in Iraq e in Afghanistan, noi occidentali buoni, abbiamo fatto un milione di morti. Queste cose vanno dette non per dare ragione a Putin ma per dire che se si vuole fare un passo in avanti bisogna riconoscere quello che è successo in questi anni. Allora, aspetta... Perché se lo rimuoviamo, se lo rimuoviamo, non siamo amici di Putin, siamo nemici della pace e degli ucraini. Allora, io vado a Kiev perché...